Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono nella registra Cancelletto 1, parlo recensione di un film del 1988, Slime City. Alex affitta un appartamento dall'anzia Alizzi, conosce poi i due amichevoli vicini Roman e Nicole. Roman lo invita a mangiare una strana sostanza verde, lo yogurt imalaiano, preparato da Alizzi e una crema alla menta preparata da Zachary, padre di Lizzi, un alchimista morto tempo prima. Poco dopo Nicole li si getta fra le braccia. Il giorno dopo Alex si sveglia ricoperto di una melma disgustosa e scopre che per tornare normale deve uccidere un essere umano. È un ciclo inesorabile, il corpo di Alex comincia periodicamente a liquefarsi e lui è costretto a compiere un omicidio per tornare integro. La cosa porta anche al deterioramento del rapporto con Lori, la ragazza di Alex, che dovrebbe trasferirsi da lui. Alex scopre che la sua trasformazione è dovuta a una maledizione. Si tratta dello spirito di Zachary che tenta di impossessarsi di lui. Alex si riconcilia con Lori e tenta di liberarsi della maledizione, ma è troppo tardi. Zachary si impossessa definitivamente di Alex e Lori è costretta a farlo a pezzi per distruggere il mostro. Il mio voto a questo film è 6. Ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto e mi sono piaciute molto le scene del film. è di genere dell'orrore, la durata è un'ora e trenta minuti. Il regista è Greg Lamberson, la regia è buona, bravo regista. La data di uscita è il 6 maggio 1988. L'attrice è Mary Hannah, brava attrice, nel film anche Dick Biel, Bunny Levin, Robert C. Sebin, Gary Stein, Alan Rickman, Ivi Rosowski, Jane Doniger, Rabel, Alan Lewis Rickman, Terry Spivey, Bill Dickay. Saluto, Samobrina, Citta, Alice Ottola, Marcolf, Mariuccio, Ilaria, Magellan, Alia, Micoli e Gianluca, Festival, Peter, Tim, Danny Elios, Daniele, The Rock, Orto, Bulluni, Ivan Drago, Isoralli, Il Trio Medusa, Michi, Robby, Toni, Cante, Pia, Domenico, Leota, Sonni, Canali PNC, Michele Trigiani, Favij, Picchiatore, Mister Bike TV, Nico Rota, Flavio, Fabio, I Dancing Queens, Marco Fo, Giulia, Alessio Uga e Telefine 122, Alessandro Bidone. Guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Arrivederci al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto.